Allora, ho chiesto a Paola se potremmo leggere questa parte, che è secondo me molto indicativa. Ma lei la scrive nella prefazione di questo libro, indicativa perché, beh, lo capirete subito, perché entra subito nel vivo della questione. Allora, l'inizio della premessa, il desiderio di pubblicare questo testo, che vede ora la luce per coraggiosa iniziativa di Alessandro Orlandi, editore delle lepre edizioni, c'era da tempo, ma maturò in una notte, quella del 18 aprile del 2014. L'atmosfera era satura dalla commozione di migliaia di fedeli radunati a Roma per seguire al Colosseo la Via Crucis con Papa Francesco. Migliaia e migliaia di persone e milioni di altre collegate all'evento in diretta mediatica, unite dalla celebrazione di un rito di conforto universale per eccellenza, dove tutto il dolore del mondo viene a identificarsi con la passione del Cristo, la grande consolazione in vista di una vita eterna nell'aldilà. Se tanti si sentono in qualche modo confortati da quella promessa, forse molti di più realizzano ormai l'assurdità della vita umana in un contesto dove l'unica via d'uscita, in fondo, sarebbe la morte. C'è qualcos'altro che deve ancora raggiungere il cuore di tanti. La certezza che questo mondo non è la valle di lacrime che siamo stati abituati a credere, e da cui, alla fine, dobbiamo andarcene una volta per tutti, dopo aver fatto del nostro meglio in una vita priva di senso. C'è dell'altro che dobbiamo apprendere riguardo al nostro soggiorno terreno. Ma questo non può essere insegnato da alcuna istituzione che abbia cancellato dal suo messaggio, per antiche ragioni di ignoranza o di politica del potere, verità che appartengono al patrimonio ancestrale della razza umana. E così l'umanità si è ritrovata per secoli come diseredata dal suo potenziale grazie alla decisione di pochi. E le conseguenze sono state disastrose un'umanità asservita, rassegnata e alienata. O consolata, appunto, perché non conosce ancora se stessa e non sa dove sta andando. Senza una visione evolutiva, l'essere umano è condannato a una ronda assurda e mortale. Senza una visione evolutiva, appunto. Shereo Rubindo è in qualche modo un Rishi moderno. I Rishi erano quei poeti veggenti di circa 8.000 anni fa che vedevano quello che sarebbe stato il futuro dell'umanità. Parlavano di... praticamente con le loro metafore meravigliosamente poetiche parlavano dello spirito e della materia che diventano uno. E Shereo Rubindo quello che... il contributo che Shereo Rubindo ha dato all'umanità è stato proprio la scoperta del segreto dei Veda ma non è una scoperta intellettuale da esegeta è una scoperta a livello esistenziale ed è appunto la... la scoperta di un nuovo potere di coscienza che i Rishi vedici vedevano che avrebbe toccato la Terra e che oggi sta praticamente scardinando tutto quello che è stato costruito dal potere di coscienza precedente che è stato quello mentale. questa è una brevissima monoramica su un tema che è immenso però ecco andiamo a vedere questa questa sofferenza il dolore di cui siamo intrisi tutti perché ciascuno ha il suo particolarissimo corpo di dolore come lo chiama Eckhart Tolle e Shorubindo parla dell'uomo di dolore che è la stessa cosa è qualcosa che abbiamo proprio appiccicato addosso ecco da dove ci viene ok? tutta questa sofferenza se vogliamo mettere la prima la religione cristiana e tutti noi ne siamo impregnati tutta la mentalità europea ha avuto una sua ragion d'essere cioè la deificazione della sofferenza questo è un aforisma di Shorubindo questa è una foto di Shorubindo nel 1909 a Bombay lui aveva già il silenzio mentale lui in tre giorni era riuscito appunto a fare il silenzio tutto il resto poi che venne e che gli fece scrivere tutto quel po' di roba che ha scritto veniva proprio dal silenzio mentale proprio da sfere superiori insomma e dice appunto gli uomini sono ancora innamorati del dolore quando vedono qualcuno troppo in alto per il dolore o per la gioia lo maledicono ed esclamano o insensibile ecco perché Cristo è ancora appeso alla sua croce questa deificazione della sofferenza ha avuto una sua ragion d'essere chi ha letto l'agenda di me era questo straordinario documento in 13 volumi dove ci sono diciamo i passi in questo yoga integrale in questa nuova realizzazione che si sta ormai manifestando in tanti modi scardinando tante cose che appartengono al vecchio paradigma e che cosa dice la ragione di questa sofferenza cioè l'azione della religione cristiana era affinché gli uomini comprendano e aderiscano alla ragion d'essere della sofferenza quale mezzo evolutivo ma questa azione ormai è stata più che sfruttata e va superata ok naturalmente occorre appunto una visione evolutiva per questo e da dove c'è venuta tutta questa sofferenza chi ha letto Savitri e ne abbiamo parlato qui due anni fa si ricorderà del titano della sofferenza in Savitri che è uno dei tre titani ciascuno che risponde alle tre madonne che appaiono a Savitri quando Savitri è in cerca della propria anima profonda per poter affrontare il dio della morte e ciascuna di queste madonne dice sono io la tua anima segreta la prima madonna è quella della compassione e dopo che ha fatto tutta la sua presentazione c'è il titano della sofferenza che fa eco dal basso e questi titani rappresentano il limite di tutti questi tre aspetti dell'anima che hanno ispirato tantissime realizzazioni meravigliose realizzazioni spirituali sul pianeta Terra ma non sono bastate per diciamo quel salto evolutivo di cui tutti ormai abbiamo bisogno perché c'è un bisogno ormai di vivere il divino non solo di raggiungerlo nei cieli al di là con questo benedetto troncamento tra il mondo da una parte e il paradiso dall'altra comunque questo titano della sofferenza quando si presenta e fa l'elenco appunto di tutte le sue angosce che cosa dice dice c'è un sordo consenso nella pigrizia del mio cuore una vehemente soddisfazione nelle mie angosce particolari eccetera eccetera dice solo soffrendo io posso eccellere perché la sofferenza parliamoci chiaro ci dà anche un'identità la mia storia no? come dice giustamente Cartolle finché siamo attaccati alla nostra storia personale ci identifichiamo con quella non siamo nella vera coscienza perché la nostra storia è qualche cosa di fluido è qualche cosa che poi scompare e la vera cosa che resta è la coscienza e la coscienza è la coscienza dell'essere e in fondo gli esseri umani non sono ancora esseri umani se non conquistano questa dimensione dell'essere the beingness come dice Cartolle ma questa dimensione dell'essere si può contattare soltanto nel silenzio della mente la mente ce lo impedisce fino all'ultimo raccontandoci tante storie e quindi gli esseri umani diciamo sono degli umanoidi no? animali pensanti possiamo dire no? dobbiamo diventare esseri umani human being da dove viene tutta questa sofferenza andiamo indietro come dice un verso di Savitri verso il gioco indietro dice verso il gioco dell'ignoranza e del fato dove c'è l'ignoranza anche la sofferenza deve venire si legge in Savitri e il fato è legato all'ignoranza ok? il fato è quel in greco ananche anche questo termine ananche appare in Savitri è la necessità è come una necessità meccanica finché siamo ignoranti siamo nella ruota karmica e questo gioco dell'ignoranza del fato come è cominciato naturalmente andiamo alla storia del paradiso terrestre che ci viene raccontata naturalmente in in maniera molto elementare e d'altra parte tutti i testi sacri assumono poi con le traduzioni e con i tradimenti delle traduzioni delle proporzioni un po' miserabili rispetto al vero messaggio che devono trasmettere no? Charobindio dice queste cose vanno lette da un emisfero superiore altrimenti se le leggiamo in maniera tridimensionale no? quindi orizzontalmente non verticalizziamo il significato di queste storie e stiamo nella favoletta no? che che vede i nostri progenitori fare quello che hanno fatto no? Emmer sottolinea giustamente dice che questa storia è stata come ridicolizzata no? è stata ridicolizzata e in qualche modo è come se un essere asurico un essere ostile se ne fosse impossessato per farne il fondamento di una religione per asservire l'umanità dice ma questa c'è tutta un'altra storia cerchiamo di vedere questa storia in una prospettiva un po' più verticalizzante no? ecco leggiamo magari quella che cosa no? quello che sta sotto la la diapositiva c'è una piano piano ecco come dice appunto Scerobindo no? che cosa rappresenta questa storia? è la deviazione dell'uomo dell'Adam dell'Adam dalla piena accettazione di Dio in se stesso a una coscienza separatrice che porta con sé tutto il seguito della dualità vita e morte bene e male gioia e dolore completezza e bisogno il frutto di un'esistenza divisa è questo il frutto mangiato da Adamo ed Eva porusce e prakriti l'anima tentata dalla natura naturalmente in una cosa rappresenta l'apparizione dell'Adam è praticamente la prima manifestazione a livello materiale di una materia mentalizzata è l'apparizione della mente sulla terra ma la mente all'origine rifletteva la mente di Dio la mens dei era una mente molto semplice era una mente trasparente così come trasparente quel globo di cristallo che si trova al centro della stanza del matrimandire che vuole rappresentare appunto la trasparenza che l'essere umano deve raggiungere per poter in qualche modo ricevere la luce divina l'ispirazione divina senza fare ombra quindi all'inizio l'Adam non faceva alcuna ombra cioè partecipava all'armonia della natura generale di questo e non sappiamo quanto tempo sia passato in questo stato edenico solo però che come dire l'albero della conoscenza c'è una linfa dell'albero della conoscenza che deve in qualche modo salire gradualmente in maniera armoniosa e questo sarebbe stato il piano divino ok ma l'essere umano mentale con la mente che cosa succede? quello che doveva succedere per diciamo il piano divino generale per la completezza della manifestazione cioè prima di prima di diventare esseri umani noi dobbiamo fare l'esperienza di tutto ciò che non è quello che dobbiamo diventare ok è la parabola del figlio al prodigo ok e questo è molto difficile da comprendere per una mentalità soprattutto europea occidentale intrisa di una certa cultura cristiana che non ha niente a che vedere con il Cristo il cui messaggio è favoloso meraviglioso ma che cosa ne è stato fatto in qualche modo perché alla base di questa nostra cultura c'è come una divisione il padre eterno il vecchio la barba bianca da una parte e poi la creazione e il mondo dall'altra ok e questa separazione fa sì che il mondo diventa un luogo diciamo di sofferenza perché naturalmente con la mente si soffre perché la mente separa divide e all'origine si è separata dal non sa più da dove viene e quindi la paura e tutto quello che comporta la paura eccetera ma va compreso che anche l'aspetto del male fa parte di un piano più grande ok e a questo proposito diciamo che la cultura indiana è molto più onicomprensiva no e ci può aiutare in questo e vorrei appunto leggere qualche riga riguardo questa cosa cioè la manifestazione deve naturalmente raggiungere un grado di complessità in cui praticamente tutto è stato sperimentato per poter poi arrivare a qualche cosa di più completo e di più di più luminoso in qualche modo ok fa parte di di un piano divino ben vogliamo andare alla successiva ecco il male che cos'è è il bene che si disintegra per preparare un bene superiore morte sofferenza ignoranza sono circostanze della mente nel corpo dotato di vita e non toccano la coscienza dell'anima liberare liberare l'uomo dalla morte sofferenza ignoranza e imporre la natura onnibeata e luminosa del regno superiore sull'inferiore è l'oggetto del cercatore nell'ice Upanishad le Upanishad sono di molto posteriori ai veda ma i veda già vedevano questa cosa cioè la manifestazione divina sulla terra noi dobbiamo arrivare a quello dopo tutto un percorso accidentatissimo in cui le nostre esperienze ci portano praticamente a integrare tutti quegli aspetti che abbiamo dentro di noi nella diciamo nella parte più subconscia inconscia integrarli capire che sono aspetti che se non sono integrati ci portano poi alla morte ok e è solo così quando avremo avuto esperienza del cosiddetto bene e cosiddetto male abbiamo avuto esperienza della relatività di quello che chiamiamo bene che viene sempre a disintegrarsi poi per portarci a un'altra esperienza e quando avremo avuto esperienza del male che viene soltanto dalla nostra ignoranza dal nostro non abitare l'essere e quindi essere in contatto con l'essenza profonda della nostra anima quindi lasciare perdere tutte le nostre identificazioni mentali con quello che è il corpo con quello che è il nostro nome e cognome sulla carta di identità che fanno parte di una espressione ok nella manifestazione diciamo del qui ed ora ma non è che ci dobbiamo identificare con quello perché così siamo tridimensionalmente perduti in qualche modo no? Ecco quando praticamente viene mangiato questo benedetto frutto dell'albero della conoscenza è come se l'uomo dotato di mente l'Adam dotato di mente fosse passato appunto da uno stato di divinità animale una divinità animale praticamente a una divinità cosciente attraverso lo sviluppo della mente fin quando poi la mente non servirà più nel senso non sarà no non servirà più non servirà più come guida ma la guida sarà qualche altra cosa sarà l'essere psichico che è in contatto con l'anima profonda ed è solo quella quella parte nostra praticamente che conosce bene qual è il piano divino l'anima profonda non ha desideri ha soltanto una volontà quella di seguire il piano divino ed è quello che poi ci rende veramente felici ma è una felicità è una gioia che non ha oggetto questo significa che non è più quella felicità che noi ci ricerchiamo quando siamo in uno stato tridimensionale cioè siamo nella mente e che cerchiamo quindi soltanto all'esterno con cose che possano completare il nostro bisogno di essere completi perché noi ci sentiamo completi nello stato tridimensionale ok e vogliamo andare avanti prima di mangiare il frutto l'uomo aveva l'innocenza dell'animale quando cesserà di mangiarlo avrà l'innocenza del Dio e ormai siamo arrivati al torsolo di questo frutto no? mangiare il frutto dell'albero della conoscenza prima del tempo dovuto è stato un atto di io voglio diventare Dio prima ancora di fare tutto un percorso quindi io sono Dio con la mia mente posso fare io decidere quindi non si è più in contatto con la mente di Dio che ci avrebbe guidato in maniera perfetta no? ma dobbiamo fare l'esperienza del nostro orgoglio della nostra ignoranza del nostro stato di separazione dal divino ok? ma come si legge in Savitri appunto prima o poi in questo stato viene il dolore quindi il dolore è il martello degli dei per spezzare una resistenza accanita nel cuore dell'uomo e da tenere presente che tutte quelle che sono state considerate maledizioni del divino che dopo che Adam ha mangiato il frutto dice ah dice tu adesso guadagnerai il tuo pane col sudore della fronte tu ad Eva partorirai nel dolore eccetera non sono maledizioni è un elenco delle conseguenze dello stato di divisione quando la mente prende il primo piano e vuole essere la guida del nostro essere ok? ma dice anche si legge tutto questo finirà cioè questo stato miserabile dice tutto questo finirà quando nelle traduzioni che non sono corrette appunto purtroppo hanno ormai ingranato la loro opera si legge appunto finché appunto non ritornerai alla terra cioè non ti preoccupare quando poi morirai se tu ti andrai nei cieli al di là nella versione originale andiamo a vedere il testo ebraico per questo per chi è interessato io suggerisco magari di leggersi le opere di Annick de Sousenel che secondo me ha fatto un'interpretazione molto molto profonda grazie non tanto a lauree in teologia che non servono a niente per queste cose ma grazie al lavoro interiore che le ha fatto su di sé ha una esperienza personale spirituale molto profonda e i testi sacri come dire si aprono a noi nel loro vero significato nella misura in cui noi ci apriamo a noi stessi ok e tutto questo finirà quando appunto ritornerai alla terra quindi sarai seppellito e tu te ne vai nei cieli è il paradiso ora dicevo andiamo a vederci il testo ebraico che è molto anteriore rispetto ai testi semitici e poi greci eccetera eccetera fin quando tu non tornerai alla terra ma ti rivolgerai alla tua Adama Adama è la parte femminile di Adamo qui la grande rivoluzione ormai ci siamo perché come dire la mente è rappresentata il lato maschile dell'essere umano sia negli uomini sia nelle donne la mente fa questo e il lato femminile è qualche altra cosa che è connesso al cuore e si situa appunto sottilmente a livello del cuore la ricettività il silenzio l'apertura ma non solo questo il lato femminile di Adamo è anche diciamo tutto il lato subconscio inconscio che va esplorato questo rappresenta le radici dell'albero della conoscenza e a proposito appunto della Adama quando anche si parla nel testo biblico di Eva creata dalla Costola praticamente Costola in ebraico ha lo stesso gioco della terminologia francese cot e coté cot che è la Costola e coté che è lato ok quindi quello è il lato femminile di Adamo poi si apre tutto un discorso che chi vuole può approfondire con le opere di Annick e de Susanne poi ecco se vogliamo andare alla successiva ecco nella natura il dolore è una possibilità che deve essere esaurita e l'uomo è stato selezionato in inglese c'è il termine selected non choose non scelto selezionato quindi è un'opera di evoluzione che seleziona le specie è stato selezionato quale strumento per portarlo nell'esistenza in uno spazio limitato per un tempo limitato ed eliminarlo dal cosmo questo è il nostro compito alla luce di questa idea la dottrina cristiana del figlio dell'uomo sulla croce acquista un nuovo significato e l'uomo stesso diventa il Cristo dell'universo la scintilla divina che tutti abbiamo dentro l'uomo è stato creato a immagine di Dio il Cristo diceva il regno dei cieli è dentro di voi questa immagine divina se andiamo a prenderci il testo ebraico appunto si leggiamo l'uomo fu creato a immagine di Dio e non a immagine e somiglianza come si trova nei testi tradotti a immagine di Dio e capace di somiglianza quindi dalla immagine che è dentro di noi il nucleo fondante del nostro essere questa scintilla divina per arrivare alla somiglianza l'essere umano è un Dio in potenza e sarà superiore agli dei i dei non appartengono all'evoluzione sono degli esseri tipici che abitano certi mondi solo l'essere umano diventerà superiore agli dei e tutto questo percorso dall'immagine alla somiglianza è il percorso della nostra evoluzione è il percorso che possiamo ritrovare nello yoga integrale è praticamente l'integrazione di tutti quegli aspetti che abitano questo questo abisso dell'inconscio in qualche modo dove brulicano delle energie potenziali straordinarie sono praticamente tutti quegli animali che nella Bibbia si legge che il divino mostra ad Adamo affinché li nomini che significa affinché li riconosca poi in se stesso dentro di noi c'è tutto il nostro passato e se praticamente queste cose non vengono comprese e integrate saranno queste stesse forze diciamo pure animali a divorarci se non viene fatto questo lavoro di coscienza e questo che poi ci porta alla morte questa figura del Leviatano che incontriamo anche nel testo biblico viene chiamato in altri modi questo mostro che si trova nei fondali si legge da qualche parte appunto nella Bibbia che alla fine dei tempi i giusti mangeranno la carne del Leviatano che significa che se non che avranno integrato tutti questi aspetti con un cammino di coscienza e di yoga integrale e e se non viene fatto questo sarà il Leviatano a divorare noi noi siamo tutti dei malati terminali finché il lavoro non è stato compiuto e questo mi fa pensare a una bellissima frase di citata appunto da Gitta Malas quella dei dialoghi con l'angelo non so se avete letto questi testi dei dialoghi con l'angelo che sono di un'ispirazione altissima in cui appunto si dice scrive in francese dice se ne parla mort qui è mauvese me la tasche non accomplì non è la morte che è funesta è il compito non eseguito ok e quindi voglio dire la nostra venuta sulla terra quanto anime incarnate non la nostra venuta registrata all'anagrafe voglio dire col nome e cognome ha questo scopo e nella misura in cui ci risvegliamo a questa cosa affronteremo anche il lavoro senza essere triturati dalla ruota del karma in qualche modo e lo yoga integrale appunto è apparso diciamo per la prima volta sul pianeta terra proprio con l'esperienza pionieristica di Shirobindo e non per niente parallelamente nella stessa epoca sono poi venute fuori tante cose che in qualche modo si svegliano in maniera frammentaria in Shirobindo troviamo veramente a 360 gradi diciamo la comprensione del processo è stato veramente un uomo alla cerniera tra due ere era qualcosa che andava fatto parlo delle sue opere scritte perché tutto questo materiale risponde a tutte le domande possibili qualcuno ci doveva pensare perché perché la mente è una lupa affamata che vuole sempre macinare qualcosa di Shirobindo quindi con tutto il materiale che lui ci ha offerto e si tratta adesso di nell'ultima edizione dell'Opera Omnia del 125esimo anniversario 37 volumi di oltre 400 pagine ciascuno ma tutto questo perché affinché la mente può avere tutte le domande che vuole e poi e poi finalmente entra nel silenzio perché non c'è più niente da chiedere e allora da lì inizia il vero lavoro perché lo yoga integrale non si ingrana se non in un momento di silenzio ok altrimenti stiamo sempre a leggerci libri a bearci di tutte le varie cose che Shirobindo ci offre o che altri testi ci offrono ma se non si si è conquistato il silenzio anche se per un secondo durante tutta la giornata ecco in quel secondo è possibile che qualcosa diciamo il miracolo avvenga si legge appunto in sé vita il miracolo diverrà atto comune ma cos'è questo miracolo è perché nel silenzio non c'è bisogno di stare a gambe incrociate parasiticamente la presenza quella che Eckhart Tolle chiama la presenza cosa che è impossibile se siamo nella mente perché la mente non ci fa mai stare presenti nel momento presente ci proietta sempre nel futuro per superare la difficoltà del momento presente oppure ci aggancia al passato grazie a tutti i nostri condizionamenti mentali quindi vediamo la cosa del momento presente in base ai nostri condizionamenti tutte le etichette che noi mettiamo sulla realtà che vediamo nel momento presente proviamo a fare questo esperimento magari dieci minuti al giorno sono anche tanti all'inizio cercare di non vedere le cose appioppandoci l'etichetta che la nostra mente subito quell'acqua chissà da dove viene forse è un'acqua di rubinetto invece di una oppure vedere una certa persona questo mi ricorda quella persona che mi fece questo quindi quella persona è antipatica qualunque cosa la mente è terribile in questo ma soltanto quando ci rendiamo conto di come siamo prigionieri dei meccanismi mentali soltanto allora possiamo cominciare a fare il vero lavoro di presa di coscienza perché finché rimaniamo nel in questo rumore incessante che ci possiede con cui ci identifichiamo siamo triturati che poi la mente è collegata poi con il nostro subconscio con tutti gli stati emotivi non non integrati e quindi basta un trigger cioè un qualunque elemento esterno che ci scatena un certo ricordo e allora tutto il corpo di dolore che viene fuori per una cosa insignificante è tutto diciamo una presa di coscienza che va affrontata siamo qui per questo ma tutto sta però a svegliarci la mattina e non identificarci con il Mario Rossi solido scontento di sé ma fare come un rovesciamento interiore cioè non siamo esseri umani che facciamo un'esperienza spirituale allora andiamo a scuola di yoga o al corso di meditazione siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza umana e quindi se il soggetto diventa il nostro vero sé le cose magari vanno diversamente no sì vogliamo scegliere l'altra ecco qua l'albero della conoscenza del bene e del male con i suoi frutti dolci e amari è segretamente radicato nella natura stessa dell'incoscienza da cui il nostro essere è emerso e su cui ancora appoggia il nostro essere come sulla base della sua esistenza fisica finché sussisterà questo suolo con dentro le radici non scoperte le radici non scoperte e quest'aria e questo clima che nutrono l'ignoranza l'albero crescerà prospererà e produrrà la sua efflorescenza duale e quindi gioia e dolore eccetera eccetera e questa oggi l'albero della conoscenza ha delle ramificazioni pazzesche si è ramificato in tutti i modi possibili immaginabili ok ma non ha mai risolto il problema di base dell'essere umano no e recentemente mi era arrivato uno di questi filmini orripilanti che fa vedere appunto certi esperimenti su animali no girato di nascosto in un laboratorio di ricerca in Italia e facevano esperimenti su dei macachi su cui iniettano delle sostanze insomma particolari e quindi si vedevano questi questi scienziati il volto non si vedeva perché era appannato naturalmente però si vedeva il volto di questi poveri macachi che vivono in gabbie strettissime e per prenderli per metterli dentro la gabbia dell'esperimento non li prendono nemmeno diciamo in braccio sono degli scimmiottini insomma ma con un'asta lunga di ferro finché non vengono incontrate li sollevano per la collottola con una cosa così quelli che si dibattono disperatamente infilati in una gabbia verticale con le mani fuori immobilizzate in modo che non si possano togliere gli elettrodi dalla testa e così procede l'esperimento cioè questa mi è parsa una delle tante ramificazioni di questo albero della conoscenza quando questi scienziati magari dovrebbero rendersi conto che la vera malattia è la malattia mentale ormai siamo tutti malati mentalmente la mente è la malattia endemica dell'essere umano oggi e allora era una cosa cioè vedere questo spettacolo era ecco uno dei tanti esempi di queste ramificazioni dell'albero della conoscenza insomma ecco poi questa illustrazione che Jung appunto dice nessun albero si dice può crescere al cielo se le se le sue radici non raggiungono l'inferno ora per esplorare diciamo questa parte inconscia che può essere considerata che è la adama dell'adama praticamente non è che la psicanalisi possa aiutarci Charubindo parlava della psicanalisi come come dire come andare con una con una torcia una torcia a mano in un abisso senza fondo no cioè la psicanalisi può in qualche modo renderci consapevoli mentalmente di certe cose e quindi diventare anche capace di controllarle ma non le sradica per questo occorre qualche altra cosa ma per andare in fondo all'incoscienza e questo è un lavoro appunto cui ci invita lo yoga integrale che Charubindo diceva non è per tutti non c'è da fare propaganda perché ci si arriva quando si è pronti occorre qualche altra cosa prima di tutto bisogna essere ancorati a quello che è diciamo il trascendente quello che è stato in qualche modo toccato da tante realizzazioni che appartengono al passato che abbiamo alle nostre spalle perché sono state provate delle soluzioni sono state cercate delle soluzioni al dramma di questo albero della conoscenza che ci procura tanto dolore quindi c'è stata praticamente le due soluzioni principali sono state quelle della soluzione nirvanica del buddismo e per cui c'è una diciamo una liberazione dal dal complesso egoico della personalità e e poi la soluzione diciamo cristiana che che però non è soltanto cristiana appartiene anche a tradizioni molto precedenti in India si trovano cioè quella di un paradiso nei cieli al di là cioè un luogo materiale in qualche modo in cui si può vivere in un'armonia perfetta eccetera eccetera però sono diciamo come Scevrobindo le definisce soluzioni parziali che naturalmente hanno preparato l'umanità a quello che è il nuovo passo va bene e sono state sempre oltre cioè sempre soluzioni parziali o vigoli ciechi cioè non si risolve mai la cosa la visione vedica no di spirito e materia che diventano uno questa è la nuova tappa che l'umanità deve realizzare e al fondo della lì dove abita il Leviatano nel fondo di queste radici questo mostro in qualche modo e non siamo noi in fondo che possiamo arrivare lì e fare il lavoro noi dobbiamo semplicemente cercare di arrivarci ma come non non esistono tecniche non esistono metodi è la vita stessa che ci offre la diciamo l'ispirazione del lavoro del momento c'è Robinda aveva detto in qualche modo siamo nel novecento ormai se ne parla in tanti in tanti altri modi ma alla base il succo è questo cioè che la vita è organizzata in modo tale cioè l'intelligenza dell'universo no e possiamo chiamare la coscienza divina in qualche modo organizzata in modo tale che ciascuno si trova davanti alle difficoltà che deve in qualche modo superare no se ha diciamo l'umiltà di riconoscere che quella difficoltà è come uno specchio di un'incoscienza interiore e ormai la new age ce lo dice in tanti modi che noi attiriamoli ma non solo è soprattutto la scienza che ce lo dice noi attiriamo quello che siamo dentro quindi quella difficoltà dice ah ecco quindi questa cosa è una mia incoscienza e quindi sentire diciamo la sofferenza che questo ci procura senza identificarci però con questa sofferenza se no siamo nel gioco tridimensionale e alla fine ci suicidiamo e sentire che quello è il lavoro del momento e andare a sentirla dentro di noi cioè la radice di questo dolore dove viene in quel momento in cui osserviamo la cosa è come se noi creassimo uno spazio perché non la giudichiamo la sentiamo sentiamo la vibrazione di dolore la riconosciamo e quindi possiamo integrarla con la nostra conoscenza ok in quel momento noi creiamo uno spazio e in quello spazio il potere del trascendente può agire ma aspetta che noi facciamo questo passo perché ci lascia liberi fino all'ultimo e quello è il libero arbitrio vogliamo continuare a soffrire quando c'è la potenza del trascendente che può toccare la materia è l'unica il potere del trascendente solo può toccare la materia perché l'estremo alto può toccare l'estremo basso come in alto così in basso tutti i poteri precedenti compresi i poteri dell'overmind che è la sfera mentale al top della mente cui appertengono le religioni nella loro essenza più vera possono portare dei poteri ma non toccare la materia e cioè smantellare le nostre memorie che sono registrate a livello cellulare noi abbiamo milioni di memorie perché abbiamo passato milioni di esistenze su questa terra e siamo impregnati di tante incoscienze ma tutto è dosato perfettamente attraverso la nostra vita quindi se c'è questa umiltà di riconoscere che la difficoltà del momento che si materializza con un dato evento rappresenta la nostra difficoltà interna la nostra incoscienza interna la cosa si risolve da sola e quella particolare difficoltà non ci si presenta più ok se invece c'è l'orgoglio la vanità di dire ah è colpa di questo è colpa di quell'altro e si dà la colpa a qualcosa di esterno da noi le cose vanno sempre peggio basta accendere la televisione e vedere i dibattiti politici no è sempre colpa di qualcun altro ecco e se vogliamo ecco qua il potere il potere del trascendente il potere del trascendente rappresenta diciamo la parte femminile del divino non manifesto esistenza coscienza beatitudine sat cit ananda è quella è quella diciamo parte del divino che entra nel gioco del divenire della manifestazione la madre divina cosiddetta no ed è solo quel potere appunto di cui parlavo poc'anzi che può toccare la materia e questa madre divina che nelle iconografie cristiane naturalmente viene rappresentata sotto l'aspetto della Vergine la madre biologica di Gesù di Nazareth ok ecco qua solo le sue mani possono cambiare la base di dragone del tempo la base di dragone del tempo perché è nell'orizzontalità del tempo nella tridimensionalità in cui si vive quando siamo allo stato mentale per cui esistono solo materia vita e mente che noi abbiamo costruito tutte le nostre magagne il karma e tutti i vari intorcinamenti e tutte le varie cose che ci procurano i disastri e ecco adesso ricordo appunto qualcosa che ha detto anche Cartolle riguardo sapete oggi vanno tanto di moda queste cose del pensiero positivo di creare la propria realtà no e giustamente Cartolle che è qualcuno che è andato ben oltre diciamo ben oltre diciamo allo stato del silenzio nirvanico qualcuno che interia in qualche modo cioè che fa agire il potere del trascendente nella materia e appunto osserva giustamente che è vero che la mente può fabbricare la nostra realtà dice ma in una percentuale molto bassa cioè non è il vivere come se pensare positivo no il potere dell'immaginazione no visualizzazione visualizziamo una certa soluzione e poi questa arriva no è una minima parte di quello che in realtà è un gioco molto più complesso e quindi l'uno il due per cento massimo ma non è quello che risolve la cosa praticamente tutta la nostra vita presente e anche futura è in qualche modo costruita in qualche modo creata da tutto il materiale subconscio inconscio fatto di emozioni fatte di paure fatte di tante cose che ancora non abbiamo integrato con questo lavoro di coscienza ok è quello che crea la nostra realtà non è tanto il pensiero positivo quindi come dice Charubindo bisogna abolire il velo tra il nostro essere e il divenire perché finora quante realizzazioni abbiamo avuto con l'essere uno sta in uno stato di beatitudine uno stato nirvanico ma il lavoro è qui sulla terra questo è il luogo del lavoro e della trasformazione questo è il passo ulteriore e è appunto quel passaggio dall'immagine divina alla capacità della somiglianza divina è allora che sarà la nostra anima profonda a guidarci e non più la mente e non ci sono più diciamo zig zag si va da una luce a una luce sempre più grande da un'armonia a un'armonia sempre più grande cioè il lavoro difficile è adesso poi potremo forse rilasciarci insomma vedremo poi come va ecco e vogliamo proseguire e naturalmente tutto questo è illustrato in maniera magnifica nel poema Savidrice tutto insomma il nostro passato il nostro presente il nostro futuro per quale alchimia il piombo della mortalità sarà trasformato nell'oro dell'essere divino ma se nella loro essenza non sono contrari è quello che dicevamo prima no? non dobbiamo vedere il male come una cosa e fa parte di un piano divino è tutt'uno ok? se sono manifestazioni sostanzialmente identiche di un'unica realtà allora diventa davvero concepibile una trasmutazione divina non per niente in Savitri quando Savitri deve affrontare il Dio della morte a un certo punto Savitri dice al Dio della morte o morte tu pure sei Dio eppure non lui ma solo l'ombra nera che gli proietta sul suo cammino quando dalla notte prende la via scende adesso non mi ricordo a memoria prende la via che ascende e della notte trascina con sé tutta la forza che Ceder non vuole forza dell'incosciente che fa resistenza ma noi abbiamo bisogno di questa resistenza abbiamo bisogno dell'avversario per crescere altrimenti ci abbioccheremo altrimenti saremmo restati nel paradiso terrestre come un bel animale divino con una mente completamente trasparente ma il lavoro per essere completo e la manifestazione per essere veramente un'opera d'arte ha bisogno di integrare tutto anche l'altro aspetto allora la cosa sarà completa ok e naturalmente ecco la grande importanza del silenzio in tutta questa storia e questi sono dei versi di Savidri le vette le vette dello spirito e la base della natura si avvicineranno al segreto della loro verità separata e si conosceranno mutualmente come una stessa divinità lo spirito guarderà attraverso gli occhi della materia e la materia rivelerà il volto dello spirito il segreto dei veda spiegato in pochi versi e non per niente quando verso alla fine diciamo del poema Satyavan viene riportato dalla morte viene riportato in vita da Savidri Savidri rappresenta la parola divina quella parola che finora ha risuonato a livello diciamo di mente spirituale ma che oggi deve risuonare a livello fisico cellulare con quest'opera di trasmutazione delle nostre incoscienze e quando appunto viene riportato in quello che Sorbindo chiama il giorno eterno che significa il giorno eterno che non c'è più la dualità in qualche modo giorno e notte e Satyavan rivolgendosi a Savidri dice da dove mi hai riportato prigioniero nelle catene del tuo amore eccetera eccetera dice ma che cos'era quell'ombra terribile che negava l'amore che negava il mondo eccetera Savidri risponde la nostra dice fu tutto un sogno dice Satyavan fu tutto un sogno questo cioè il sogno della morte eccetera la nostra separazione fu un sogno la nostra separazione fu un sogno dice Savidri e questo rappresenta l'essere umano che diventa veramente essere umano poi quello che sarà l'evoluzione lo vedremo perché supereremo tante di quelle cose che oggi accettiamo cioè accettiamo tutte quelle manifestazioni che per noi sono normali perché ormai il mondo dell'esilio è stato normalizzato e crediamo che quella sia la realtà ma la realtà che ci aspetta è ben altra e possiamo costruirla soltanto nella misura in cui scopriamo la dimensione profonda dell'anima è in questo la grande importanza del silenzio cosa che la mente cercherà di impedirci fino all'ultimo e dice un verso di Savidri appunto nell'assoluto silenzio dorme un potere assoluto destandosi può risvegliare l'anima prigioniera della trance se l'anima è prigioniera della trance cos'è questa trance è l'incantesimo malefico è l'incantesimo malefico della dualità quando noi siamo esseri interi ma per contattare la nostra integralità dobbiamo andare al centro come andiamo col tempo ecco non so volevamo come sempre lasciare un po' di spazio a delle domande intanto io volevo infilarmi leggendo due righe che che Paola riporta in questo prezioso libretto sierrobindo in on myself scrive lungi dal mio scopo propagare qualche religione nuova o d'antica per l'umanità in futuro c'è una via da aprire che è ancora bloccata non una religione da fondare mi ha colpito questa frasetta perché è molto questa frase perché è molto legata anche alla rassegna di incontri che facciamo qui sierrobindo non fonda una nuova religione forse ben di più cioè ha aperto quella strada bloccata è stato il pioniere praticamente e quello che credo che un po' tutti cerchiamo di fare cercare di accogliere dalla saggezza dall'insegnamento di questi immensi maestri qualcosa per sbloccare questa strada non c'è niente da fondare nuovo è già tutto lì e di fatti voglio dire ha sbloccato talmente questa strada che ormai tutte le persone ricettive più o meno ci stanno in questo lavoro e appunto conosco persone che non sanno niente di sierrobindo di me non hanno detto nulla ma questa cosa la stanno vivendo in qualche modo non per niente mi è molto piaciuto tradurre un libro lì non c'è ma è un libro di Russia è un'americana che vive in India Tiruvanna Malai che è intitolato Uno in inglese Oneness ed è lì si può vedere come anche questo lavoro di integrazione dei vari sì in qualche modo dei vari secola S minuscola e ci sono tante altre cose è un libro che mi piacque molto lo tradussi conosciuto anche l'Audricia non stava lontano da Auroville è venuta anche ad Auroville ecco voglio dire non è una cosa per Aurobindiani tra virgolette ecco questo voglio sottolineare ecco non per niente Amer diceva come sta nel risvolto di copertina e lo diceva nel 1972 diceva tra 50 anni tutta la parte ricettiva dell'umanità sarà assorbita dal pensiero dalla visione di Charubindo cioè quelli che lo sono ora hanno il vantaggio di essere i primi ormai la cosa la cosa c'è insomma perché la coscienza di verità che è questo nuovo stato di coscienza di cui parlavano i risci vedici truth consciousness che Charubindo chiama sia truth consciousness in Savitri sia super mente super mind niente a che vedere con la mente è proprio la coscienza dell'unità del molteplice quello che la scienza ormai ci ha dimostrato però a noi delle formule non ci importa nulla occorre farne l'esperienza la coscienza dell'unità del molteplice e quando si ha questa coscienza voglio dire diventa impossibile fare del male a qualcun altro no? perché c'è la la realizzazione praticamente non solo del sé ma la realizzazione del sé c'è già stata voglio dire nelle realizzazioni precedenti che sono nelle nostre spalle ma è quell'aspetto dinamico che solo quel potere del trascendente può trasformare diciamo la materia e ci sono dei versi di Savitri che se ben ricordo dicono sono parole che Savitri rivolge al dio della morte e dice questo è libertà un'anima sempre insediata cioè che sta a posto suo praticamente che riconosce nel materiale dei mondi una gran trama di azione e la gran trama dei mondi è tutto quello che abbiamo costruito nel tempo e quindi tutte le difficoltà che ci si presentano ok? e vederle con gli occhi non di Mario Rossi ma con gli occhi dello spirito incarnato in Mario Rossi e quindi il lavoro da fare nella nostra interiorità perché poi le cose all'esterno saranno solo dopo che il lavoro interno è stato fatto che si manifesteranno ok? Bene se c'è qualche domanda ripeto io abbiamo ancora dieci minuti poi io voglio lasciare un po' di spazio per chi vuole prendere i libri di Paola che abbiamo in fondo poi ricordiamo sempre che questi ripeto questi incontri sono sempre degli spunti per tutti noi degli spunti per andare poi in profondità né qui né è bellissimo perché se ne parlava proprio il nostro gruppetto in questi giorni che alcuni dicevano ma perché è Shao Robindo ma non ha dato una sua regola una sua e in realtà proprio perché per ciascuno è diverso ciascuno ha le sue coordinate ciascuno è un mondo e Shao Robindo lo sapeva bene quindi dare una tecnica un metodo può portare poi a come dire a cristallizzarsi nel metodo nella tecnica a dare più importanza a quello che diventa poi come una specie di religione di abitudine e bisogna stare attenti a non tradire la nostra anima in nome della della religione insomma ecco bene io se non ci sono interventi ringrazio vieni vieni Chiara lo dico molto spontaneamente non ho una domanda ben formulata però spontaneamente quello che mi viene in mente da questa bellissima e complessa insomma esposizione io mi chiedo di fronte a questo cammino che l'anima intraprende queste forze come l'inconscio e il subconscio che in qualche modo generano una domanda che deve essere appunto integrata se ho ben capito come come può essere come si può mantenere un atteggiamento molto positivo molto forte molto spirituale quando emergono queste forze che da quanto capisco sono appunto dolorose e contrastanti e quindi cioè per non perché a fronte di questi concetti appunto subconscio inconscio che magari io non so nemmeno bene definirli comunque viene una sorta quasi di di ansia di paura o comunque di atteggiamento molto ingombrante invece il cammino spirituale io lo vedo come una fondamentalmente come un'attitudine molto forte coraggiosa positiva insomma diciamo sto parlando in maniera abbastanza generica e quindi cioè questa domanda nasce dalla lettura del libricino La Madre che appunto di Sirea Urobindo e in particolare dal commento al capitolo 6 in cui c'è proprio la necessità il commento credo sia della madre e non di Sirea Urobindo la necessità di far fronte a queste forze opposte perché se no improvvisamente se tu non le ascolti possono emergere in una forma quasi anche finale quasi apocalittica proprio perché tu non le hai sapute ascoltare prima quindi è molto importante e quindi volevo chiedere come come ascoltarle come partire è una domanda che mi rendo conto anche un po' così buttata lì però fondamentalmente non è che uno deve affrontare mentalmente nel silenzio vengono oh vuol dire non è che si devono affrontare mentalmente no è appunto nel silenzio che vengono le risposte queste risposte non sono verbali cioè ti viene ti viene data quella ispirazione giusta al momento giusto capisci perché la mente non non arriva mai veramente a a risolvere il problema l'abbiamo visto tutte le varie soluzioni mentali che vengono sono state cercate o vengono cercate tuttora per tanti problemi no è la stessa cosa è soltanto questa rivoluzione spirituale ma deve partire dal silenzio profondo nella misura in cui contattiamo la profondità della nostra anima siamo guidati non c'è problema cioè la mente sta silenziosa fai la cosa giusta al momento giusto non so come e quindi questo inconscio subconscio vorrebbe dire anche le nostre paure dolore insomma tutto ciò che è l'irrazionale certo però tutto viene dosato a dovere niente ci viene dato oltre le nostre possibilità quindi anche se a volte siamo magari superati crediamo che sia troppo in realtà c'è sempre quella diciamo quella cosina in più che sembra impossibile che ci fa fare poi il passo ulteriore verso una crescita ulteriore quello che dicevamo prima altrimenti saremmo stiamo qui per essere appunto per fare questa esperienza non so se sono avevo scoperto recentemente qualcosa in internet di uno che non c'è più ha lasciato il corpo ma che è stato conosciuto dai cartolle da giovane quando stava a Londra ed è praticamente qualcuno che aveva realizzato il silenzio e aveva anche fatto una creato una specie di sequenza di dieci lezioni non lunghissime per poter capire i meccanismi subdoli che ha diciamo il nostro pensatore interno per tenerci nella sua rete se ci leggiamo poi in Savitri il dibattito tra l'amore e la morte il Dio della morte cerca sempre di riportare Savitri nella mente in modo che abbia paura ma Savitri ormai è talmente centrata che parla alla fine incarnando completamente il potere del trascendente insomma è solo così che può affrontare il Dio della morte e dissolverlo nella luce perché in fondo la morte non esiste abbiamo creata noi le nostre incoscienze adesso dobbiamo fare tutto il cammino inverso di smantellamento e beh ci tocca volevo fare complimenti per come si è spiegata perché veramente è stata chiara grazie veramente complimenti e complimenti a voi per aver esistito che ne hanno avuto è stato interessantissimo il tempo volato grazie grazie a te grazie a te